«Lasciatemi dire un'altra cosa, e poi basta! Non voglio offendervi. La vostra coscienza, voi dite. Non volete che sia messa in dubbio. Me ne ero scordato, scusate, ma riconosco. Riconosco che per voi stesso, dentro di voi, non siete quale io di fuori vi vedo, non per cattiva volontà. Vorrei che fosse almeno persuaso di questo. Voi vi conoscete, vi sentite, vi volete in un modo che non è il mio, ma il vostro. E credete ancora una volta che il vostro sia giusto e il mio sbagliato. Sarà, non nego. Ma può il vostro modo essere il mio e viceversa? Ecco che torniamo da capo. Io posso credere a tutto ciò che voi mi dite. Ci credo. Vi offro una sedia. Sedete. E vediamo di metterci d'accordo. Dopo una buona oretta di conversazione, ci siamo intesi perfettamente. Domani mi venite con le mani in faccia gridando, ma come? Che avete inteso? Non mi avevate detto così e così? Così e così, perfettamente. Ma il guaio è che voi, caro, non saprete mai. Né io vi potrò mai comunicare come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato turco, no? Abbiamo usato io e voi la stessa lingua. Le stesse parole. Ma che colpa abbiamo io e voi se le parole per sé sono vuote? Vuote, caro mio. E voi le riempite del senso vostro nel dirmene. E io nell'accoglierle, inevitabilmente, le riempio del senso mio. Abbiamo creduto di intenderci. Non si siamo intesi affatto. Storia vecchia anche questa, si sa. E io non pretendo di dir niente di nuovo. Solo torno a domandarvi. Ma perché allora, Santo Dio, seguitate a fare come se non si sapesse? A parlarmi di voi. Se sapete che per essere per me quale siete per voi stesso e io per voi quale sono per me, ci vorrebbe che io dentro di me vi dessi quella stessa realtà che voi vi date e viceversa. E questo non è possibile. Ahimè, caro! Per quanto facciate, voi mi darete sempre una realtà a modo vostro, anche credendo in buona fede che sia a modo mio. E sarà, non dico. Magari sarà. Ma a un modo mio che io non so ne potrò mai sapere. Che saprete soltanto voi che mi vedete da fuori. Dunque un modo mio per voi, non un modo mio per me. ci fosse fuori di noi, ci fosse una signora realtà mia e una signora realtà vostra, dico per se stesse, e uguali, immutabili. Non c'è. C'è in me e per me una realtà mia, quella che io mi do. Una realtà vostra in voi e per voi, quella che voi vi date, le quali non saranno mai le stesse, né per voi e né per me. E allora? Allora, amico mio, bisogna consolarci con questo, che non è più vera la mia che la vostra, e che durano un momento così la vostra come la mia. Mi gira un po' il capo? Dunque, dunque, concludiamo.